Sì, grazie Presidente. Ovviamente esprimo il voto favorevole della maggioranza. Questo atto arriva alla fine di un lungo percorso, un gran lavoro, un lavoro importante. Lo ripetiamo, un primo passo per le tante attività che verranno fatte da questo momento in avanti. È un atto che questa città aspettava da tanto tempo, lo ribadiamo, da 11 anni. Quello precedente era stato fatto da un commissario straordinario, per cui un risultato importante che questa città sta ottenendo. Da ora in avanti ci sentiamo più sicuri nel poter affrontare le criticità, ma la cosa più importante è che inizia proprio questo percorso di aumento della cultura, della protezione civile in questa città. Grazie.